Musica Oggi 19 marzo, festa di San Giuseppe, quindi festa cristiana del papà. Siamo con il dottor Renato Bertolucci, psicologo, psicanalista e anche consulente del Tribunale di Lucca, a quale vogliamo fare qualche domanda su questa festa. Ecco, al di là del consumismo, dei cioccolatini, dei gadget, dei regali che si fanno ai nostri padri, per chi è fortunato che ce l'ha ancora, quali sono le origini di questa festa? Beh, intanto vi ringrazio di avermi invitato e darmi la possibilità di sottolineare ancora una volta l'importanza del ruolo paterno. Devo dire che le origini, addirittura abbiamo preso alcuni appunti, nascono nel XX secolo, addirittura la prima volta che è stata celebrata la festa del papà, che si ricordi è il 5 luglio del 1908, nello stato della West Virginia, e addirittura in una chiesa metodista locale. Poi chiaramente è stata sviluppata, ripresa dal 1910, soprattutto sia nell'ambito degli stati americani, ma poi praticamente anche nei paesi cattolici, dove in effetti ha recuperato la storia, sottolineando l'importanza di San Giuseppe, quindi come padre putativo di Gesù, e quindi chiaramente padre di tutti noi, e quindi ecco che è cominciato a festeggiare, e noi lo celebriamo chiaramente il 19 marzo. Mentre invece è singolare, per esempio, quello che succede negli Stati Uniti, dove è celebrato nel terza domenica di giugno. Oppure vediamo anche, per esempio, in Thailandia, dove addirittura viene celebrata nella giornata del compleanno dell'attuale sovrano, Rama Nono, e quindi praticamente acquista diversi significati in diversi contesti. In Russia, per esempio, viene festeggiata il giorno della festa di liberazione dello Stato russo, quindi come celebrazione dello Stato proprio russo in sé, e quindi come padre della patria. Quindi ecco che addirittura acquista molti significati. Ecco, dottor Bertolucci, invece il significato psicanalitico, più profondo, archetipico, di questa festa del padre? È una domanda veramente interessante, ci vorrebbero... Però ecco, mi viene in mente soprattutto anche la mia esperienza personale come papà. Ecco, mi viene da dire, cioè, il padre, parlando dei figli, nella pancia di papà. Quindi prima, anticamente, ma fino a non tanto molto tempo fa, sia il parto che i primi istanti di vita erano patrimonio titolare della donna. Poi man mano si è sviluppata una certa disponibilità del padre ad essere coinvolto, e quindi assistiamo addirittura anche i padri nella sala parto, nella sala travaglio prima, nella sala parto, e chiaramente il primo proprio impatto con un bambino non più idealizzato, ma un bambino vero. Mi viene in mente la mia esperienza personale, per esempio, la mia prima figlia, quando assistendo al parto, l'infermiera mi ha dato la bambina in braccio da lavare, e devo dire che io ero emozionato e per togliermi dall'impasto, perché non sapevo assolutamente come trattare il primo contatto con questo essere, che ero sovraffatto dall'emozione, ho detto all'infermiera che era più brava lei a lavarla che non io. Quindi anche nella sua pratica, diciamo, di studio, questo ruolo del padre è molto cambiato? È cambiato, addirittura assistiamo a padri che testimoniano la loro vicinanza, avendo addirittura anche loro le doglie, sentono i dolori, o addirittura sentono proprio l'istinto della paternità vissuto in maniera viscerale, quindi con gli stessi sintomi che può indurre una gravidanza, quindi accompagnano, intendono essere presenti. È importante però ribadire la differenza dei ruoli, è importantissimo perché chiaramente il padre, proprio anche pensando nel senso analitico del termine, quindi all'archetipo del padre, il padre viene visto come colui che diciamo fa da trait d'union tra la famiglia e la società, quindi quello che trasmette sì il caldo affettivo, ma anche il potere, il potere educativo, mentre invece chiaramente nell'archetipo la madre tende a essere quella che accudisce, anche perché in effetti ha il suo ruolo fondamentale. Diciamo per adesso non ce l'ha ancora insegnato a lattare. Allora a tutti i papà, i padri, tanti tanti auguri di una buona giornata e di una buona famiglia a tutti.